Ciao a tutti e bentornati nella microfficina di IEM Project. Vi ricordate cosa stavamo costruendo? Sì, l'attrezzo multifunzione. Bene, arrivati a questo punto ricominciamo tutto da capo. È uno scherzo, eh? Diciamo però che ho deciso di sostituire il legno con cui avevo fatto la base in modo che tutto fosse più stabile. Ok? A lavoro. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.